Un zucco cremolato buon caldito e super gusto, per favore. Bene? Ecco. Certa gente che faccia tosta. Cosa? Falsifichare un biglietto. È un biglietto d'oro. Tu hai trovato l'ultimo biglietto d'oro nel mio negozio. Senti, vendilo a me. Ti do 50 dollari. È una bici nuova. Ma cosa dice? Io gli offro 500 dollari per quel biglietto. Vuoi vendermi il biglietto per 500 dollari? Adesso basta. Lasciate stare il ragazzo. Senti, non devi darlo a nessuno. Portalo dritto a casa. Hai capito? Grazie. 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 Grazie.